Abbiamo trovato un armadietto che ci piace molto, guarda quel tettorino Quanto è? 60? Guarda qua, è 70 70 per altezza 199, io non ci arriverai a 199, manca 10 centimetri ma lì posso dare una secata alla, proprio all'angoletto perché c'ho trave proprio che sale così il tetto, vabbè, a parte quello che io guarda quant'è carino, e i vestiti a vista, come sta foto qua ad esempio dove c'è vita o c'è auga, effettivamente dove c'è vita perché se la casa è piccola i vestiti non prenderanno mai polvere perché è in continuo, li prende, li togli, non è che c'è un armadietto gigantesco, e costa? 185 euro e passa la paura e l'espa?